Il mio nome è Antonis Davanellos, vengo dalla Grecia e sono membro di DEA, sinistra internazionalista operaia e anche sono membro di Siriza. Questi giorni in Grecia stiamo combattendo una grande lotta contro licenziamenti massicci di massa nel settore pubblico e lottiamo anche per salvare la scuola pubblica e gli ospedali pubblici. Nello stesso tempo combattiamo contro i neonazisti dopo l'assassinio di Pavlos Fizzas, un militante della sinistra antifascista e antirazzista. Queste lotte aprono la prospettiva di rovesciare la politica reazionaria della classe dominante greca, della Unione Europea e della ben nota troica. In questa lotta sappiamo che non possiamo vincere da soli. per noi in Grecia sempre il movimento operaio italiano e la sinistra italiana è stata un'ispirazione per gli ultimi 40 anni. Quindi sono molto felice e onorato di essere a questa conferenza e auguro ai compagni di sinistra anticapitalista il miglior successo nelle loro lotte politiche e voglio che loro sappiano, che lottano anche per noi tutti e allo stesso tempo che noi lotteremo per loro. e quindi i migliori auguri.